a tutti voi una cordiale buona serata ben ritrovati con sanità benessere oggi parliamo di gondola questa sera il dispositivo medico nato all'interno del gondola medical technologies di Lausanne e lo facciamo ovviamente concentrandoci sul secondo dei temi maggiori sviluppati proprio dal dispositivo medico che è il recupero nei casi di ictus questi discorsi questa sera li facciamo come al solito con il dottor Stefano Tassin direttore scientifico del gondola medical technologies e Chiara Previati terapista della riabilitazione presso il centro La Panacea a Coparo dunque ictus quindi dottore a lei la parola spieghiamo cos'è e poi ovviamente addentriamoci in quello che succede con il dispositivo gondola sì intanto buonasera l'ictus è un fenomeno molto colpito in Italia ci sono circa 25.000 casi di questa ischemia al giorno che colpiscono più o meno un po' tutti noi l'ictus è un ristringimento o un problema legato a una parte vascolare del nostro cervello dove si crea un vaso ischemico dunque si crea un'ostruzione e questa ostruzione porta una morte momentanea o importante dell'aria dove non viene erogato il sangue che è molto 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 comune e questo porta in giro di qualche secondo un vero cambiamento nella vita di questo paziente da sano a molto malato ossia questo tipo di fenomeno è un fenomeno che va in base all'entità del danno va a creare quella che noi chiamiamo un emiparesi cioè può portare un emiparesi o più cose ma normalmente quando il danno diciamo è medio ci troviamo di fronte a un paziente che ha una paralisi di una parte del suo corpo o destra o sinistra in base a dove c'è stato l'evento e poi abbiamo un secondo dato importante che è l'ischemia cerebrale che è una cosa un po' diversa dove questa fuoriuscita di sangue sempre per un'arteria un indurimento dell'arteria che viene e scoppia questa sangue che va sulla parte del nostro cervello crea una cosa mediamente analoga con delle conseguenze un po' diverse quindi cosa succede? Succede che da questo momento in poi il paziente è un portatore, un grande o grave portatore di handicap dunque non ci troviamo di fronte alla malattia neurodegenerativa dove incominciamo a conoscerla giorno per giorno e abituarci anche all'handicap della persona, del paziente che noi abbiamo davanti a E ma troviamo il signor Rossi, lavoratore, bravo, bravo papà, da un momento all'altro è un uomo che ha perso tutta la sua funzionalità o parte della sua funzionalità e succede veramente in una frazione di secondi questa cosa dunque questi pazienti che cominciano magari con un grande mal di testa, uno svenimento improvviso da lì poi ambulanza, viene ricoverato, si fa immediatamente un attack per vedere cosa c'è, si risponde subito a certi tipi di trattamenti l'attack poi è lo strumento che serve per verificare l'entità del danno che purtroppo si è causata da lì si va direttamente in stroke unity, cioè nel reparto dove vengono gestiti questi tipi di problematiche che si tengono monitorati i pazienti, si danno dei farmaci per cercare di andare a portare una riduzione della pressione sanguigna dunque stabilizzare il paziente e poi lì si aspetta e si osserva al risveglio del paziente lo stato reale del danno quindi è anche importante le tempistiche, la velocità la velocità è importante, è importante sì, ma è importante perché può essere che non ci sia soltanto un evento nella misura in cui ho uno svenimento, ho una perdita di sensi e i miei cari se ne rendono conto chiamano l'ambulanza e mi portano all'ospedale i giochi sono fatti, cioè quello che doveva succedere è successo poi è chiaro, da lì ci sono una serie di parametri da tenere in considerazione o da mantenere attivi per evitare ulteriori conseguenze ma quello che poi fa da maestro è, come torno a ripetere, è l'ATTAC comunque uno strumento sicuramente per immagini che ci fa vedere oltre al tipo di danno che a volte è anche difficoltoso perché se c'è una grande perdita ematica nel cervello non si riesce a capire quanto è questa entità, lo si vedrà nei giorni successivi ma è importante perché non può essere un caso, magari non è un caso singolo magari in ospedale ti può capitare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto quindi bisogna comunque tenere sorvegliato quindi andare a terapizzare immediatamente il paziente vuol dire stabilizzare la condizione sul danno che esiste che purtroppo è questo danno che comunque viene poi a essere evidenziato al risveglio e quando il paziente è in grado di provare a fare certi movimenti o meno sì, e al risveglio sì e nei giorni successivi diciamo che l'entità del capire quanto mi sono fatto male in realtà possono passare anche 10-15 giorni al che nel momento in cui è stabilizzato il paziente non rimane che di ospedalizzarlo e portarlo in una struttura che si occuperà del recupero a medio e lungo termine per cercare di mantenere o cercare di dare più movimento possibile a questo paziente che si troverà irrevocabilmente con una paralisi laterale, destra o sinistra e questo vuol dire braccio, tutto il braccio e tutta la gamba da una parte e dall'altra probabilmente anche il viso probabilmente anche il viso, se prende una parte del cervello prende anche la comunicazione se prende l'altra no però insomma sicuramente un danno mediamente severo poi ci sono questi danni che si chiamano tier, cioè sono transitori che hanno una valenza completamente diversa dunque nei 25.000 al giorno che dicevo prima che comunque è un dato impressionante sono in Italia, c'è dentro di tutto è davvero un dato impressionante pensare che 25.000 al giorno al giorno, è veramente impressionante questo succede mediamente a macchia di leopardo uguale in tutto il mondo dunque tanti fattori, lo stress, l'alimentazione, la vita difficile l'abuso di alcol, il fumo tutte cose che sappiamo già molto bene ce lo dicono sin da piccoli che fanno male di stare attenti ad avere un ottimo stile di vita mangiare bene, fare movimento dedicarsi un po' di tempo per sé cosa che diventa sempre molto difficile poi man mano che andiamo avanti invece di migliorare la qualità di vita sembra che stia sempre peggiorando cosa succede prima di gondola nel mondo intendo cioè nel normale andamento del paziente che si risveglia e che dopo un tot di giorni il medico, l'equipe eccetera valuta tutti i danni qual è stato fino a prima di gondola l'andamento del recupero? come e se c'è stato ovviamente? anche lì è molto difficile stabilizzare il come perché appunto va in base all'entità va in base all'età del paziente comunque diciamo fatto 100 che siamo tutti uguali cosa che non è assolutamente vera il mondo della neuro-riabilitazione punta se ha un problema di comunicazione a mettere uno specialista per quanto riguarda la rieducazione della parola e i terapisti occupazionali che non sono fisioterapisti ma i terapisti occupazionali insegnano al paziente con un deficit motorio di questo calibro come fare a utilizzare nella vita di quotidiana non so, la forchetta, il coltello bere un bicchiere con l'altra mano con l'altro dunque cercare di gestire aumentare la capacità motoria del braccio e della mano che non sono colpiti e poi della riabilitazione intesa come cercare di stabilizzare il paziente in posizione retta ricercare di dargli equilibrio e cose di questo tipo Che cosa succede invece oggi? No, succede qualcos'altro succede che noi sappiamo che nel mondo della neuro-riabilitazione il tempo che noi possiamo dare come beneficio come stabilizzazione del beneficio ossia quanto rimane paralizzato a questa persona nell'arco normalmente di 3, 4, adesso qualcuno dice anche 5 mesi i giochi sono fatti cioè tutto quello che potevi recuperare l'hai recuperato a questa finestra temporale da lì in poi la riabilitazione la rieducazione serve solo per mantenere i benefici che tu hai ricevuto o appunto in discorso del terapista occupazionale a insegnarti delle strategie per riuscire a lavarti e sistemarti insomma con quello che di salvo hai quindi con l'altra parte di noi stessi che è rimasta ancora diciamo come prima però in questo le faccio un esempio molto molto vivo perché è di due giorni fa tre giorni fa non di più i venerdì forse io ho visto nell'ambulatorio in uno degli ambulatori ho visto un paziente che nel 2019 ha avuto un severo ictus in Germania loro sono degli italiani che vivono ormai da tantissimi anni in Germania dunque i figli sono nati in Germania e questo signore qua ha avuto questo questo ictus questo stroke molto forte ed è stato terapizzato come succede in Italia Francia e in altre parti del mondo no? Ed è rimasto nel centro di riabilitazione per sette settimane che è tanto non è poco dove a dir loro doveva fare una riabilitazione intensiva che è quello che si aspetti che ci aspettiamo tutti no? Cioè intensiva cosa vuol dire? Vuol dire che non dico otto ore al giorno ma quattro o cinque ore al giorno tu dedichi a me questa cosa non succede scordatevela dovete scordarvela perché è vera non succede non succede in Germania non succede in Italia non succede in Spagna non succede in Francia non succede in nessuna parte perché? Perché ci sono dei costi ci sono una serie di cose che bisogna purtroppo di cose condividere con le sanità e il paziente magari fa della riabilitazione una ventina di minuti alla mattina e una ventina di minuti al pomeriggio poi magari ci inseriscono una mezz'ora legata al miglioramento della comunicazione ed è finita la sua giornata questo vuol dire che ha tante ore libere dove il paziente riposa certo ma quello è un paziente che più riposa più peggiora certo più stabilizza la sua malattia per ritornare questi signori della Germania quando sono arrivati loro hanno incominciato a farmi vedere tutta una serie di cose che hanno fatto appunto in questa clinica tra parentesi privata dunque è stata un appartamento immagino dove il papà non ha avuto il minimo miglioramento cioè papà non riusciva neanche a rimanere seduto da solo tra parentesi dico questa storia perché le due figlie sono due infermiere quindi che lavorano in un ospedale pubblico vicino a casa loro però papà è stato messo in una casa privata perché sembrava che erano più bravi erano che io sono rimasto sbalordito quando è arrivato perché dal loro racconto io ho visto un uomo sulla sedia a rotelle che non si muoveva ma che comunque sia posturalmente da seduto non crollava né a destra né a sinistra sulla sua carrozzina e non andava molto d'accordo sul loro racconto e loro hanno detto noi stufi di vedere peggiorare non migliorare il nostro papà ce lo siamo portati a casa questa cosa che vi dico è una cosa che io sento dire e probabilmente Chiara è d'accordo con me tutti i giorni tantissime persone decidono di riprendere il proprio carro e portarsela a casa lo so che è brutto dirlo perché sembra quasi che le persone che sono là non fanno niente no però è un approccio diverso probabilmente hanno le mani legate su tante terapie e io non lo metto in dubbio non mi permetto di giudicare il lavoro degli altri ma questa è una delle n volte che i figli portano a casa il papà il proprio carro poi con amore con tanto tempo con volontà l'hanno provato a mettere in piedi hanno provato a fare di tutti sono riusciti a fare in modo che il papà riuscisse a mangiare senza peg cioè senza la come si chiama l'alimentazione forzata ed è un successo incredibile dice piano piano papà un po' alla volta ci hanno messo veramente amore e un sacco di altre cose che io non conosco così bene come hanno fatto loro ma ce l'hanno fatta essendo poi infermiera erano molto attente insomma hanno fatto un grandissimo lavoro e io dico caspita complimenti dice sì sì perché parla papà adesso non parla per l'amor di Dio ma facendo dei piccoli cenni molto decisi si fa capire se lo voglio o non lo voglio dice questa cosa quale dottore non puoi immaginare papà aveva gli occhi chiusi e non si muoveva appunto era morto per loro dice guarda per noi potete lasciarla qua ancora sei mesi noi continuiamo a fare queste cose volete portarlo via fate quello che volete quindi riportandolo nella loro casa è già cambiata la situazione quindi ecco le volevo chiedere l'aspetto umano in questa riabilitazione quindi il fatto di essere accudito dalle proprie figlie di vedere negli occhi le proprie figlie non una la motivazione perché questo signore era nel periodo del covid dunque i figli ancora peggio e la moglie non potevano neanche andare a trovarla lui si trovava in una condizione di infermità quasi totale da solo da solo non sapeva se viveva non sapeva se moriva non sapeva se le cose che stava facendo funzionavano insomma proviamo a metterci nei panni di questa persona e mi hanno portato un uomo tra parentesi giovane perché ha una sessantina d'anni e magari anche con un po' di voglia di stare meglio allora dico va bene caspita che bella cosa allora cosa facciamo proviamo a farlo alzare in piedi no no dice no no cosa sta dicendo no no papà non sta in piedi non ce la farà dice ma come mi pare che mi avete mandato un filmato sì ma lei lo guardi bene nel filmato effettivamente c'erano due persone che lo tenevano che lo tenevano due persone belle grosse che lo tenevano su e lui con la gamba che funzionicchia faceva un leggero cenno per spostare avanti la gamba ma loro lo facevano perché dicono non ci interessa l'importante è che lui si muove no e lì è stato quello che probabilmente è importante capire io ho detto siete state molto brave e quello che avete ottenuto probabilmente l'avete ottenuto con l'amore e fa 100 sicuramente il problema è che adesso dobbiamo interagire con la sua centralina ossia papà per dal 2019 a settimana scorsa ieri nessuno ha mai provato a creare uno stimolo in quel cervello per vedere se le porte si aprono e lui dice questa è la giustifica al fatto che noi dalla Germania siamo venuti qua mi hanno assicurato che papà non riusciva assolutamente a stare in piedi abbiamo provato in ambulatorio a metterlo in piedi e chiaramente crollava no oltre a crollare non aveva neanche era in capto cioè piegava la schiena in avanti non riusciva a mantenere il bacino lo riusciva a mantenere da seduto appoggiato ma in piedi zero cadeva completamente in avanti sono cose che noi vediamo spesso dottore io la fermo qui perché adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria e che cosa è successo a questo paziente subito dopo appunto la visita in Italia lo scopriamo insieme quindi restate con noi a tra poco Ed eccoci rientrati in studio dunque ci siamo fermati per questa breve pausa pubblicitaria ma ricominciamo subito il racconto che stavamo facendo ovvero quello di un paziente dopo successivamente a un evento ischemico nella fase di recupero questo paziente ovviamente dopo una fase senza risultati tra la clinica e un po' invece di risultati attraverso l'accudimento delle proprie figlie e anche infermiere professioniste è stato visitato dal dottor Tassin ed eravamo qui prima della pubblicità se vuole anche recuperare un attimo dei discorsi fatti lo lascio fare a lei perché ovviamente dal punto di vista medico è importantissimo puntualizzare quali sono le fasi e poi ovviamente prego quindi questo paziente è arrivato da noi privo di movimenti e soprattutto con un problema legato al busto dunque mancanza totale di coordinamento per mantenere il busto eretto questa è una cosa che noi vediamo spesso soprattutto quando i pazienti vengono terapizzati in un certo modo e non vengono stabilizzati dunque i muscoli perdono tono e dunque quello lì è una perdita di muscolo e non su una parte neurologica è una perdita di muscolo che nasce proprio dall'inabilità del movimento questo vuol dire che nel percorso che lui ha fatto non è stato neanche stabilizzato a livello di bacino che è una cosa secondo me che non si fa comunque accettiamo questa sfida il paziente era assolutamente non in grado di rimanere in piedi e soprattutto non in grado di mantenere il proprio bacino abbiamo provato a fare la stimolazione loro sono state molto bravi le due figlie a spiegargli passo per passo perché era molto terrorizzato è svenuto un paio di volte perché dicevano ma guardi che è normale anche prima quando vedevo un camice bianco sveniva e dunque ci sono stati un paio di attimi di terror un po' di panico insomma un po' di spauracchio da parte della famiglia perché in questo tipo di condizione e poi finalmente facciamo questo tipo di stimolazione la stimolazione è stata molto ben tollerata e a quel punto bisognava farlo stare seduto allora le figlie dicevano se per voi non è niente se non è un problema per voi lo gestiamo noi che lo conosciamo molto bene chiaramente io ho Chiara in giro anche negli altri ambulatori dunque la Chiara di quell'ambulatorio dice no no lo gestiamo noi voi sedetevi e facciamo tutto noi ed è stato imbarazzante io non lo davo per scontato io non do mai niente per scontato è stato imbarazzante che nel momento in cui è stato girato il paziente è messo seduto sul lettino era completamente in autonomia non era appoggiato sulla schiena da nessuna parte e loro che sono comunque gente del mestiere la prima cosa che hanno detto non è possibile non è possibile e non è possibile che in 96 secondi lui ha recuperato totalmente totalmente il bacino totalmente a quel punto l'abbiamo lasciato lì un attimo è stato rincuorato perché questo tipo di problematica fa in modo che normalmente i pazienti piangono tantissimo è proprio un fatto neurologico dunque una volta confortato abbiamo provato a stabilizzarle in piedi la faccio corta l'abbiamo alzato l'abbiamo appoggiato con la schiena al muro verticalizzato senza davanti niente ed è rimasto in piedi per i primi suoi due minuti in totale autonomia hanno fatto filmati hanno fatto di tutto meraviglioso ed è stato meraviglioso in 96 secondi ha ottenuto molto di più di quello che ha ottenuto in tutti i due anni che ha fatto dopo il suo evento ischemico è un paziente immaginò le figlie a quel punto sì noi siamo stati molto colpiti loro sono molto arrabbiati perché nel viaggio per arrivare in Italia hanno chiesto al loro neurologo e nonché al loro medico anche di famiglia se avessero mai sentito parlare di questo tipo di stimolazione il neurologo pare che si sia messo a ridere questo è quello che mi è stato riportato e il medico di famiglia sosteneva che era assurdo buttare via solo del denaro in benzina per riuscire ad arrivare a fare una cosa di questo tipo questo succede oggi questo è successo e stiamo parlando a 10 anni dai primi studi su gondola quindi uno si aspetta che nell'ambito scientifico in 10 anni qualcuno almeno abbia osservato che c'è qualcosa di diverso sta di fatto che ho ricevuto ieri la telefonata dalla mia segretaria che è stata chiamata dalla moglie di questo paziente ed è già a un quarto d'ora riesce a rimanere un quarto d'ora da solo in piedi un quarto d'ora ecco io poi approfitto anche anche attraverso dalla televisione se avranno queste due ragazze e il loro papà modo di vedere la trasmissione se volessero mandarci una testimonianza anche un semplice filmato anche un video per incoraggiare soprattutto per incoraggiare questo lo metto come promessa perché le ragazze sono molto molto brave e come mission facendo loro le infermiere hanno detto questa cosa la devono fare tutti loro una delle due ha lavorato in stroke unit per parecchi anni e dice non è consentito non è giusto per la vita delle persone non avere questo dispositivo quindi loro mi hanno chiesto immediatamente cosa sono i prossimi passi beh intanto l'idoneità del paziente mi sembrava molto 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 pimpante sulla base di quello verrà costruito il suo dispositivo loro lo acquisteranno ma sono assolutamente contenti di acquistarlo e avranno un programma estremamente facile per il recupero a medio termine sulla capacità motoria del proprio papà ossia loro hanno deciso di tenerlo a casa e di seguirlo loro cosa che secondo me è fantastica poi insomma sono professionista del mestiere quindi sono anche agevolata al che loro farà il papà farà una stimolazione ogni tre giorni a casa sua dunque in casa sua non in un ambiente esterno e io sono abbastanza convinto che tra 4-5 mesi al massimo ricomincerà a camminare ovviamente noi siamo con le nostre telecamere accese a disposizione per sentire come andrà avanti questa storia e ripeto anche per vederla perché io ricordo quanto sia stato apprezzato dal nostro pubblico il video di una donna di appena 45 anni adesso vado un attimo a memoria una mamma giovanissima che appunto con tanti sacrifici tanto coraggio e voglia di star bene anche ovviamente per i propri bambini dopo aver scoperto gondola non vede l'ora insomma di potersi migliorare poter recuperare anche quel po' quel po' ogni giorno per tornare in una piccola autonomia quotidiana e non dover aver bisogno sempre di assistenza continuamente questo implica una riflessione e la domanda deve nascere secondo me spontanea e se la terapia fosse stata fatta prima? cioè subito subito noi abbiamo dei casi di pazienti che dopo essere stati deospedalizzati hanno sentito parlare di noi e sono venuti sono venuti subito e venire subito vuol dire non perdere la loro qualità motoria rimanere attive le aree cerebrali che grazie al Parkinson siamo riusciti a studiare e ha permesso loro di avere una dignità motoria cento volte migliore di quella che gli aspettava prima quindi il tempo è fondamentale nonostante questo nel mondo sappiamo che dopo quattro o cinque mesi tu sei stabilizzato ma abbiamo sfatato anche questo mito perché questo signore qua è successo due anni fa tre anni fa ormai 19 20 tre anni fa e quindi nonostante che siano passati tre anni già nella prima stimolazione lei ha avuto un enorme miglioramento certo mi viene in mente un'analogia che magari lei mi dirà non c'entra niente ma l'utilizzo del defibrillatore in caso di arresto cardiaco ha cambiato stiamo parlando della stessa identica cosa soltanto quella cosa che lei ha detto con tale semplicità è ancora molto in cantina soprattutto da parte di tanti miei colleghi perché non la cosa più bella è osservare il fenomeno ma se tu sei ottuso e pensi che le cose che hai sono le uniche armi che hai e non riesci a guardare oltre non si riuscirà mai a evolvere questa situazione quindi insomma un po' una provocazione gliela lancio una volta nella trasmissione abbiamo detto che si fa fatica a volte a rendere consapevole il paziente dei miglioramenti però è altrettanto difficile probabilmente rendere consapevole la comunità scientifica di questo cambiamento di questa rivoluzione qui sì perché fa paura e tutto ciò che fa paura a volte viene messo in cantina è molto più facile dire a un paziente con un ictus guardi ho sentito parlare in una trasmissione delle stesse che c'è la possibilità di migliorare mio marito ha la possibilità o mia moglie ha la possibilità di migliorare e vedersi di fronte a te un sorrisino del tipo bah io non lo so se volete provare a buttare via dei soldi questa è la cosa più sciocca che un professionista può dire anche perché le persone che si sono avvicinati dunque dei colleghi che sono avvicinati a questo tipo di terapia che hanno visto con mano cosa succede realmente i loro pazienti la consigliano a tutti Chiara come si lavora su un paziente che bisogna riabilitare dopo un evento ischemico ovviamente dopo che ha anche goduto della stimolazione di gondola allora molto più semplicemente rispetto a prima abbiamo la possibilità comunque di dare autonomia a un po' più di autonomia a quell'arto che comunque è colpito e quindi la coordinazione del movimento e soprattutto l'abbassamento della spasticità che di solito è conseguente a questi danni risulta essere inferiore se ce l'abbiamo inferiore riusciamo a muoverci meglio riusciamo a riprendere quegli schemi motori che ci mancano riusciamo a essere più sicuri su quell'arto che altrimenti da sempre una sorta di instabilità quindi la persona ha anche paura ad affrontare il movimento perché si fida solo dell'arto sano il fatto di poter tutte le volte che noi facciamo gondola con gli ictus c'è qualcosina che rimane in memoria in più mentre Parkinson è on off l'ictus è oggi guadagna un po' di più domani guadagna un altro pochettino di più dopo domani guadagna un altro pochettino di più quindi nell'arco del tempo che possono essere mesi ovviamente abbiamo un recupero funzionale che è completamente diverso da prima quindi quello che dicevo prima di Silvia è proprio così vale la pena continuare a insistere a fare riabilitazione a impegnarsi che si va pian piano recuperando sempre un pezzettino in più io ho un signore che ha 55-56 anni che ha fatto un ictus credo tre anni fa mi pare di ricordare così a memoria lui è tornato a guidare la macchina ecco insomma un progresso quindi ha preso gondola la figlia ha insistito così lui continua a fare la sua riabilitazione perché essendo mi sembra di Modena e quindi un po' lontano quindi non ce la facciamo a vederci però i colleghi di Modena lo stanno aiutando tantissimo e lui è tornato a guidare la macchina quindi autosufficienza quindi capacità di nuovo di fare di salire scendere riuscire a gestire essere pronto e beh certo certo che la guida poi è tutto un insieme di capacità messe tutte insieme che devono funzionare bene esatto quindi se comunque gli hanno dato la possibilità di poter rientrare a guidare vuol dire che ha le possibilità di poterlo fare quindi le capacità sono ritornate ad essere e in quel caso lì abbiamo avuto anche un buon risultato anche sull'arto superiore che è inferiore a quello che è l'arto inferiore il risultato che otteniamo sulla gamba però lui ha avuto un miglioramento anche per quanto riguarda il discorso dell'arto superiore quindi quello che mi ha detto è generico cioè sempre si riesce a migliorare prima l'arto inferiore rispetto all'arto superiore quindi di solito abbiamo sempre più la regola la casistica è quella la cosa più lampante è recuperare la gamba arte inferiore che non è più così rigido come rigido spastico quindi riduzione della spasticità e poi nel tempo si ha anche qualcosina sull'arto superiore almeno io ho visto questo insomma quindi qualcosa anche a quel livello lì riusciamo a recuperare e soprattutto il fatto che si sentono diversi si si sentono diversi e quindi anche l'ambito caregiver si modifica insieme a loro dove appunto avevi bisogno di assistenza quotidiana cominci a essere sempre più autosufficiente pian piano che va ad aumentare la riabilitazione sì sono molto contenti i caregiver perché ovviamente hanno un po' più di libertà insomma noi parliamo sempre di qualità della vita che migliora sia Parkinson ictus comunque hanno intorno queste persone che si fanno carico della malattia dell'ammalato del paziente quindi se si libera uno a catena poi si libera tutto il resto ma noi per il Parkinson abbiamo detto che la stimolazione va rifatta ogni tot giorni a seconda del paziente quando va a scemare che cosa invece cambia nel caso dell'ictus? non si fa forse un po' più frequentemente distanza di 42 giorni ecco grosso modo va ripetuto ma anche qui è soggettivo comunque c'è qualcuno che riesce a farla anche ogni tre giorni ma direi che ogni due giorni è la intensità giusta la frequenza la frequenza giusta di ripetizione del trattamento grosso modo l'esecuzione della stimolazione è la stessa cambia l'effetto sull'organismo e cambia anche il recupero che avviene in tempi e modalità diverse in uno o nell'altro beh sì perché comunque con il Parkinson abbiamo una stimolazione fatta a una persona che potenzialmente riesce ancora a fare tutto solo che non è più in grado di farlo qui non sono proprio in grado cioè non c'è proprio più la potenza del fare perché l'arto appunto è spastico è rigido eccetera e i risultati cioè dopo un tot di anni di lavoro con gondola penso che tu abbia lavorato su pazienti post ictus anche prima di gondola da riabilitatrice quindi qual è insomma l'atteggiamento mentale il tuo stato d'animo poi nei confronti del dispositivo beh sto commentando no spezzi una lancia su questa cosa no direi è cambiato il tuo lavoro immagino no sì per me è tutto un altro modo di lavorare cambia l'ottica cambia anche proprio l'approccio che hai perché sai che hai un potenziale in mano che altrimenti non ce l'avresti sai che puoi dare di più sai che puoi rendere le cose più facili sia a te che al paziente e quindi è tutto un altro modo di lavorare sì è tutto un altro modo di lavorare sai che affronti una patologia con uno strumento che ti dà capacità che prima te le dovevi guadagnare sul campo facendo 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 e qui hai già una porta aperta che poi era quello che facevano le due sorelle con il loro papà senza gondola era la neuro riabilitazione che si fa di solito cioè quella che ci hanno insegnato e quella che si faceva fino a prima di gondola ecco insomma quindi è un compensare cose che non ci sono più situazioni che non si riescono a recuperare più di tanto e quindi cerchi sempre di trovare la strategia la meno peggio ecco insomma per far sì che possano ritornare con quel minimo di autonomia o quantomeno essere più leggeri ok qui sappiamo che possiamo fare qualcosa di più ecco più gratificante anche da parte tua vedendo i risultati dopo sul paziente assolutamente e allora io come sempre approfitto dello spazio televisivo vi do a casa la possibilità di prendere nota del centro comunque del centro di Milano della clinica 0297070465 perché ovviamente se siete in un caso di difficoltà proprio come abbiamo ascoltato la storia delle due sorelle con un papà giovanissimo tra l'altro a seguito di un evento ischemico perché non farla una telefonata cioè perché non raccontare la propria condizione la propria situazione quindi magari lasciarsi indirizzare e tentare comunque la strada di una visita medica attraverso il centro del movimento di Milano o nei centri più vicini che ovviamente vi verranno poi segnalati dalla persona che vi risponderà o che in autonomia potete anche trovare sul sito gondolamedical.com e vi ricordo che ovviamente se ci state seguendo dalla provincia di Ferrara un centro di riabilitazione post ictus ovviamente attraverso il dispositivo gondola è proprio il centro la panacea a Copparo dove troverete la nostra affezionatissima Chiara che ovviamente saprà innanzitutto mettervi a proprio agio e poi attraverso gondola comincerete con lei un percorso di riabilitazione Dottor Tassin quali sono se ci sono novità in questo momento lavori in corso noi avevamo lanciato nelle puntate precedenti anche il discorso del dispositivo non home ma quello professional ovvero quello che viene utilizzato al bisogno nel centro specializzato abbiamo qualche minuto proprio un flash l'idea è sempre quella di divulgarlo il più possibile dunque i center che si occupano di problematiche neurologiche è quello di poter consigliare e dare il dispositivo multipaziente che è il dispositivo che ha Chiara per dare la possibilità a una serie di pazienti di andare a provare e verificare realmente vicino a casa l'efficacia di questo tipo di stimolo questo permette anche ai operatori dunque ai fisioterapisti di avere anche per loro un enorme vantaggio perché aumenta notevolmente la loro platea di pazienti e quindi di riuscire a costruire una vera e propria rete dove un paziente che esce da Chiara è un paziente diverso rispetto ai pazienti che escono da altre parti grazie come sempre dottor Tassin grazie Chiara e grazie a voi di essere stati in nostra compagnia io vi ricordo come sempre il canale YouTube del sito Telestense dove poter trovare tutto l'archivio delle puntate di Sanità Benessere Oggi e quindi riascoltarci prendere nota del centro ovviamente di Milano interessarvi alle tematiche e divulgarle noi facciamo il nostro lavoro e voi a casa aiutateci ad amplificare questo messaggio se vi va intanto grazie di essere stati con noi e l'appuntamento come sempre per il prossimo venerdì arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.